Da dove possiamo partire quando parliamo di una tecnologia? Beh, innanzitutto questo è un workshop di presentazione di uno strumento veramente utile nell'ambito di un approccio clinico integrato. Naturalmente lascerò poi l'approfondimento più importante al dottor Marco Stanton. Mi limito al fatto di condividere con voi questa opportunità che abbiamo nell'ambito della scienza che allunga la vita. Ormai tutti cercano la risidia di lunga vita, c'è una diatriba contrastante del fatto che è lo stile di vita, sono i mitocondri, è la capacità di rimettilare il DNA, è l'attività fisica. Io dico che insomma c'è anche molta eredità epigenetica e quindi soprattutto vedremo che poi dipende anche dai nostri genitori soprattutto. Allora dovremmo chiederci nell'ambito dell'epigenetica cosa stiamo facendo oggi per avvicinarsi al luogo in cui vogliamo essere umani. Quando parliamo di una prevenzione, io sono perplesso quando ti dice facciamo uno screening per trovare se hai un problema di salute. Io dovrei fare uno screening per evitare la malattia. Dice qual è la causa? Una volta che io ti ho trovato malato, se non ti ho trovato malato ti dico vai torna quest'altro anno. Se ti ho trovato malato poi dobbiamo fare i conti sulle cause di quella malattia che sappiamo sono molto complesse, sono multifattoriali. Parliamo di malattie importanti, sappiamo che è veramente poi una limitazione della nostra vita importante. È chiaro che in un ambito di approccio clinico integrato, rivolto alla prevenzione, al supporto, sia in ambito sportivo, sia in ambito sportivo che diciamo di quello che poi, come mai mi è andato via il... di quello che sono poi i vari fattori che entrano nel condizionamento di una performance ottimale, di una qualità della vita ottimale, dobbiamo poi fare i conti con tantissimi aspetti. Allora, cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita delle persone? Cosa possiamo fare per evitare questi danni? Abbiamo a dire che la vita è urgente, che il DNA non è il suo destino e che la mente, come ci insegna, ci insegnano tantissimi ormai della psiconeuroendocrinologia, del grande Bruce Lipton, beh, ci dicono la mente è più forte del genere. Io dico sempre, è vero, dipende anche dal terreno, quindi dai reali rischi congeniti, anche dalle costituzioni della nascita e poi tutti quei fattori che conoscete bene. Dobbiamo anche pensare che quando parliamo di epigenetica, questo dono straordinario della vita di queste due cellule, dell'unione di padre, i nostri genitori, che ci hanno donato la vita, beh, in quel momento scarichiamo l'atto della nostra vita. Quindi quando parliamo di memoria epigenetica, pensate in quel momento dal concepimento che memoria scarichiamo ai nostri genitori, del padre e della madre, di tutto quello che hanno fatto intera generazione per poi donarci la vita. Quindi pensate alle memorie presenti in quel momento. È lì che poi si fanno i giochi della nostra salute o della malattia. Perché vedete, quando parliamo di inquinamento, dobbiamo fare i conti che non siamo più, non viviamo più in un ambiente come 100, 200, 300 anni fa. E spesso ci troviamo a che fare con uno delle più gravi, a mio avviso, pandemie della nostra generazione, anzi, dell'intere generazione. Pensate solamente al fumo attivo e passivo per 100 anni nei locali, chiusi, nelle case, nelle macchine. E cosa abbiamo fatto respirare, cosa noi abbiamo respirato dai nostri genitori che magari inconsapevoli fumavano in casa, al ristorante, nei cinema, nei teatri, negli aerei? Allora c'è una domanda che faccio spesso, è quando è stata l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? La seconda domanda è che se è un problema da risolvere o no? E tutti risponderebbero, ah certo. Cosa fate per risolvere i problemi dell'inquinamento in ambito clinico, un approccio clinico integrato sicuramente pochi hanno una soluzione. Qual è la soluzione? Possiamo cambiare casa? Possiamo cambiare città? Possiamo cambiare lavoro? Pochi se lo possono permettere. Ma in un approccio clinico integrato si tiene conto delle interferenze di questi fattori che possono danneggiare la salute delle persone? Basti pensare al fatto che l'epigenetica che condiziona la salute di intergenerazione è il software della nostra vita. Già a livello fetale. Già nella salute dei padri e delle madri prima del principio. Ma se questo è vero, cosa stiamo facendo per evitare il danno che questi fattori possono creare a intere generazioni? Il fumo è, come si dice, optional. Ma pensate a tutto il resto. Dall'infiammazione silente di basso grado, la disfunzione mitocondriale. Beh, la soluzione data dagli andrologi, pensate, per combattere l'inquinamento, perché c'è un'infertilità, una denatalità importante, dicono, ah, congelate il liquido seminario. Cioè, questo è risolvere i problemi di cosa? Della denatalità. Pensate che già a 16-18 anni questi hanno un altissimo rischio di essere inferti. studio del professor Italiano di riproduzione umana. La domanda che io faccio a un medico, a un professionista, a un nutrizionista della salute, dico, bene, ma se questo è vero, in ambito di un approccio clinico integrato, cosa stiamo facendo per risolvere questi problemi? Per tutelare la salute delle future generazioni. C'è un aumento di malattie degenerative, gaterosclerosi, disturbi metabolici, tumori, soprattutto nei bambini a 0-2 anni. Qualcuno mi dice, eh no, ma le malattie, no, soprattutto dipendono dalle emozioni. Probabilmente sì, c'è un'attivazione emozionale. Ma un bambino che mi nasce con una leucemia nella terra dei fuochi, capite che lascia poco spazio all'aspetto emozionale. Anche se può essere importante per la madre e per i genitori. Vedete, faccio sempre il paragone di questo acquario. Questo acquario che alcuni di noi hanno in casa, non basta andare in un acquario, un grande acquario di Genova, vogliamo andare? Bene. Chi si segnerebbe di mettere in quelle vasche dell'acquario dove devono vivere i pesci sostanze incompatibili con la vita dei pesci. Oppure togliere l'ossidio. Oppure mettere tutte quelle sostanze che stanno danneggiando la salute dei nostri figli. Basta pensare al cibo, permettetemi il termine, spazzatura, senza fare pubblicità, dalla Coca-Cola allo zucchero e a tutte le sostanze che noi respiriamo. E l'esempio è questo. Vedete, quando facciamo un esempio di quello che può accadere, è quello che noi tutti i giorni facciamo a intere generazioni, a noi stessi, respirando purtroppo aree altamente inquinate. Eppure continuiamo a vivere in questi ambienti. Sapete tutti voi che fate questo mestiere, quanto sia importante l'alimentazione, l'ambiente, lo stile di vita, lo stato emotivo. Pochissimi si occupano della carenza di ossigeno. Spesso l'ossigeno lo diamo quando siamo in fin di vita, quando è troppo tardi, oppure in fase acuta con l'ossigeno-zonoterapia. Eppure faccio fare l'esercizio, dico, tappa di naso e bocca per dieci minuti e nessuno lo fa. È chiaro, senza ossigeno non possiamo vivere. Non possiamo pensare di rimanere senza ossigeno. Eppure ci pensiamo quando è troppo tardi. Ma quanto ossigeno arriva alle nostre cellule se siamo intossicati? E quanto ossigeno viene consumato dalle nostre cellule se c'è una disfunzione mitocondriale magari congenita? Cosa stiamo facendo per evitare i danni dall'impatto ambientale? Allora, quanto sarebbe interessante, parlando di tecnologia, avere subito una cartina tornasole un GPS che guardando dall'alto ci dice guarda, probabilmente devi lavorare su questi sistemi. In questo esempio, no? Sistema stressogeno, i metabesimi di zuccheri, il equilibrio microbico intestinale, il sistema cardiovascolare, intestinale, il sistema immunitario. Bene, la tecnologia S-Drive ci permette di donarci, poi lo vedremo, dottor Marco Stanton, questi report personalizzati, tra cui anche quello proprio per il sistema immunitario, il metabolismo, no? Messi qualcuno, la rigenerazione delle cellule, sì, per lo sport, per ottimizzare, guidare, migliorare la qualità della vita delle persone. In un approccio clinico integrato migliorare l'anamnesi, se parliamo con i medici. E questo ci permette di rimettere in moto quel motore che è il motore mitocondriale per tutelare e riattivare un giusto apporto di ossigeno, un giusto apporto di idrogeno attraverso quello che noi mangiamo, beviamo, respiriamo e poi anche pensiamo, chiaro. Perché senza un adeguato apporto di ossigeno e idrogeno non produciamo ATP, la moneta di scambio di tutte le reazioni metaboliche del nostro organismo. Spesso però questo è silente, questa situazione, quando non va, ce ne accorgiamo quando è troppo tante, quando c'è un'infiammazione cronica. Infatti, le malattie croniche sono un documento. E come mai? Siamo 100.000 miliardi di cellule, no, ne abbiamo 75 milioni, gli altri, no, ne abbiamo, beh, abbiamo tantissime cellule. La nostra salute dipende dalla salute delle nostre cellule, dall'endotelio, al fegato, ai muscoli, bene, tutto questo, poi, tutto questo influiscono anche le emozioni, sappiamo che sono universali, trasversali, ma quanto influiscono le carenze nutrizionali? Quale vitamina è carente o non entra a livello intracellulare? lo vedremo. Magari facciamo un esame del sangue, molti professionisti che utilizzano S-Drive lo sanno, però poi ragionano sul fatto che S-Drive dice, guarda, ma è carente, non arriva alla cellula. E allora bisogna lavorare a livello ricettoriale, bisogna capire anche la forma di somministrazione, la via di somministrazione, il tipo di vitamine, se vengono assimilate o meno. La stessa cosa vale per i minerali, S-Drive ci mette in condizione di conoscere quali minerali ha bisogno la cellula di quella persona, quindi è un approccio personalizzato, individuale, molto preciso. E lo stesso gli acidi grassi essenziali, faremo una bellissima lezione proprio su questo, quest'altra di alta formazione per parlare, approfondire questo aspetto. Ogni, si parla sempre di prenditi l'omega 3 che ti fa bene, ma se ho bisogno di omega 9 o magari l'omega 3 linoleico perché mi devi dare l'omega 3 di H che non mi serve. Ecco che noi possiamo fare veramente la differenza dal punto di vista personalizzato per ragionare il perché il corpo sta chiedendo quelle sostanze come il sistema antiossidante per contrastare in maniera adeguata l'eccesso di radicali liberi oppure dal punto di vista gastrointestinale incominciare a ragionare sui vari fattori che possono condizionare la salute della persona a livello gastrointestinale oppure l'impatto ambientale sostanze chimiche idrocarburi radiazioni metalli tossici ecco la tecnologia S-Drive che vi stiamo presentando va a lavorare su questi fattori e cosa dire di questa pandemia da campi elettromagnetici che strumento oggi avete per valutare l'elettrosensibilità di una persona o il danno mitocondriale che certamente fa un apparecchio come il telefonino con cui molti dormono alla notte o vivono con wifi eccetera senza proteggersi e i sintomi sono sempre gli stessi nausea sangue del vomito diarrea cefalee vertigini pensate queste sono tutte situazioni anche a volte subdole silenti che a cui non diamo non riusciamo a dare una spiegazione S-Drive ci mette in evidenza questo aspetto e noi di questo parliamo alla scuola di alta formazione quindi vi invito se alcuni di voi fossi interessati a informarsi e mandare un email per chiedere come partecipare perché vedete già da bambini non si sbucciano più le ginocose vivono in questo ambiente si sviluppano in questo ambiente dove respirano anche i detersivi disinfettanti che si essiclano sul pavimento perché li utilizziamo e poi naturalmente vengono respirati quindi fate 1 più 1 e diventa 5 il problema e infatti dice ah l'epigenetica rischio cardievole scolari in età pediatica ah quindi rischio cardievole scolari è una malattia epigenetica che dipende dalla salute dei padri del madre prima del concepimento già questo è un studio importante che dice attenzione riducete l'esposizione dei vostri bambini dei vostri figli ma se utilizziamo il cellulare è stato interessante lo appoggiamo alla pancia e ormai uomini e donne sono continuamente esposti cosa stanno facendo per proteggersi eppure i campi elettromagnetici addeggiano anche l'acqua del corpo come vedete in esposizione di microonde televisioni computer cellulari aumentano vedete tutte queste cose aumenta lo stress indossativo questo è un documento ufficiale dell'European pubblicato dall'ISDE dai medici per l'ambiente aumenta lo stress ossidativo nitrossativo aumentano il danno mitocondriale e quindi aumenta l'infiammazione alle malattie ma se c'è anche una disfunzione mitocondriale il problema è esponenziale e se questo accade nella pancia della mamma questo è un problema gravissimo guardate proprio l'ho scaricato praticamente oggi questo testo medici avvocati essenziali si uniscono proprio a livello internazionale per tutelare i bambini la dichiarazione internazionale di diritti umani ai bambini era digitale vedete un documento molto importante i genitori e funzionali scolastici stanno riconoscendo i rischi della dipendenza digitale gli esperti di priva si sono preoccupati per la monetizzazione dei dati privati ai bambini dei medici epidemiologi sono preoccupati per gli impatti biologici a lungo e breve termine delle radiazioni finalmente incominciano a capire che stiamo danneggiando la salute di future generazioni e e questo è uno dei fattori più importanti epigenetici di sprogrammazione a livello sia nella salute dei padri e delle madri ma poi nella salute dei primi mille giorni di vita e duemila giorni di vita già ne parlavamo nel 2010 con il times il dna non il tuo destino chissà quante volte l'avete visto e poi quello che fa in gravidanza è l'infiammazione silente voi medici lo sapete bene ma cosa stiamo facendo che strumenti abbiamo in mano per capire cosa effettivamente stia danneggiando le cellule la terrosclerosi è una malattia epigenetica giornale italiano di terrosclerosi i fattori epigenetici stile di vita inquinamento dicono sempre le stesse cose ecco perché avere a che fare con un strumento come S-Drive che ci permette di capire quali minerali ha bisogno vitamine quali danno ambientale è fondamentale perché è un equilibrio a 360 gradi psico-fisico emozionale nutrizionale non solo ti dico uno stile ti do un'indicazione se non sa uno stile di vita ma incomincio a parlare di ambiente di cosa ti danneggia i ritmi sono veglia se c'è un problema emozionale stressoso se c'è un problema di sonno S-Drive lo rilevera e ti dice dove intervenire cosa ha bisogno per supportare il sistema immunitario cosa devi fare per proteggerci e scendere dalla ruota dei cricetti che è quella dove viviamo lavoriamo e viviamo e dormiamo ecco poi l'orologio epigenetico chiamato così ci dice sono tutti i fattori di rischio ma quali sono i fattori di rischio che ti stanno danneggiando è solo il fumo quello che bevi quello che mangi e quali sono i fattori che ti possono proteggere in maniera individuale beh la metabolomica è fondamentale è importantissima alcuni di voi la utilizzeranno sicuramente perché poi sappiamo che attraverso i metaboliti noi risaliamo risaliamo a cosa? alle cause no? certo perché non sappiamo se quel metabolita viene fuori da un'emozione da un ambiente da un impatto ambientale da un metallo pesante non lo sappiamo certo e poi quanto può costare è fondamentale ma pensate se invece potessimo farlo questo esame della metabolomica dopo in maniera mirata precisa senza magari spendere profilo metabolomico 240 euro il sistema gastrointestinale 140 e lo screening 90 e poi lo screening plus 188 e poi la permeabilità 230 e poi i profili aminoaci di 150 certo ottimi fondamentali lo so dal punto di vista della lipidomica ma le cause sono queste che mi scatenano quei problemi ecco perché è fondamentale capire effettivamente cosa possiamo fare per arrivare alle cause del problema per fare vera prevenzione per rimettirare il DNA come ci insegna la grande scienziata premio nobel è lavorare su tutti i fattori dallo stress cronico alla depressione al stress prenatale lavorare sui padri delle madri prima del concepimento lavorare su tutti questi fattori sappiamo già che l'inquinamento atmosferico accorcia i tenomeri questo è uno studio importante sono tantissimi sul fatto che con l'inquinamento PM10 2.5 PM5 0.5 accorciamo impatto ambientale sta dimostrando questa pandemia quindi è importante rimettirare il DNA sapere quale vitamina di cui abbiamo bisogno per rimettirare il DNA se ho la B6 mi mancano i folati darò i folati e se dai ci permette di lavorare a livello intracellulare e approfondire naturalmente con tutti gli altri strumenti che è già utilizzato stiamo facendo un lavoro importante con l'Università di Sasser ringrazio la dottoressa le dottoresse Pischi e la professoressa Feno proprio per quello che stiamo facendo per lo studio con questo test sui centenari perda di fogo eccetera entreremo anche in questo test con l'S Drive un progetto importante di un ambulatorio delle forze armate penso che sia importante quindi lavorare sul sistema immunitario su tutti i fattori che condizionano la salute e il sistema immunitario non solo virus ecco perché l'epigenetica è una vera e propria rivoluzione se conosci però i fattori epigenetici che ti evitano la modifica e l'imprinting epigenetico è lì che dobbiamo lavorare sulla salute dei padri e madri prima del concepimento dovremmo mettere al mondo bambini sani perché il regalo che tua madre non vorrebbe mai farti è questo eppure sono già stati pensati contati 500.000 morti premature in Europa nel 2016 a causa dell'impatto ambientale e dell'inquinamento Italia al primo questo questi dati in televisione non lo li diamo tutto epigenetica dall'inquinamento al feto all'allattamento sprogrammiamo la vita di intergenerazioni ecco perché questa tecnologia potrebbe essere molto interessante per una vera medicina personalizzata preventiva preventiva e partecipante per evitare il fatto di andare al supermercato e comprare pubblicità e vivere in un mondo malato dove pensate ancora oggi le persone che fumano non sanno che una sigaretta inquina 15 volte più di una macchina diesel e le fonti sono istituto tumori di Milano e anche di questo non se ne parla allora andiamo in carenza di ossigeno c'è un impatto ambientale devastante 370.000 morti di tumori nel 2019 vado veloce ma vedete tutti i fattori di rischio che noi con S-Drive possiamo incominciare a comprendere incominciare a ragionare potrebbe essere le radiazioni potrebbe essere il radio che sta infiammando questa persona già ce lo dice il senato della repubblica 193 pagine ci dice attenzione è tutta epigenetica le malattie iniziano a livello fetale e poi i danni da campi elettromagnetici di cui vi parlavo prima 1 su 36 oggi nasce un bambino autistico oppure lo usiamo come babysitter e non teniamo conto di tutti i fattori epigenetici l'AIRS ci dice l'epigenetica studia come l'età e l'esposizione ai fattori ambientali tra cui agenti fisici e chimici dieta e attività fisica possono modificare l'espressione dei geni io preferisco studiare come fare e evitare che questo mi modifichi a livello genetico quindi devo lavorare sull'esposono evitare sul meccanismo epigenetico che mi porta a malattia perché se è vero che conta l'epigenetica nei tumori le mutazioni sono trasmissibili a seconda terza generazione come si dice la associazione italiana ricerca sul cancro come diceva Einstein un uomo intelligente evita il problema non risolve il problema ci mettiamo sempre una pezza ecco perché conoscere questo è fondamentale l'uso nella clinica potrebbe essere molto interessante per mirare il protocollo centrato sulla persona personalizzato nel conoscere i sistemi già c'è chi usa la risonanza magnetica e non sa che questa è medicina biofisica quantistica lo sapete va in risonanza con gli ioni idrogeni l'ecocardiogramma è quantistica come l'elettrocardiogramma come i telefonini che utilizziamo questi arnesi infernali beh pensate che Hans ha detto attenzione il futuro della medicina sarà basato sull'uso dell'intelligenza artificiale perché la biologia è troppo complessa per essere compresa quanti fattori che possono danneggiare la salute della persona ecco perché naturalmente l'anamnesi e l'esperienza di un medico è fondamentale ma essere aiutati per capire quali sono i fattori che danneggiano la persona penso che sia altrettanto importante per sapere cosa serve a una cellula i medici non saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale ma quelli che la usano prenderanno il posto di quelli che non la usano e ancora come vedete stiamo andando verso questa direzione anche Kodak diceva che aveva la miglior macchina al mondo anche Nokia sono spariti dal mercato perché il futuro deve essere naturalmente gestito controllato bisogna saperlo usare ma se hai qualcosa di interessante potrebbe potrebbe essere un video sull'intelligenza artificiale ma non ve lo posso fare ascoltare se poi volete approfondire ve lo possiamo mandare l'aspetto spettroscopia spettroscopia ottica è fondamentale un biomarker molto affidabile la NASA usa il capello per la salute degli astronauti viene utilizzato il bulbo per i disturbi psichiatrici questa è la tecnologia assedrale che genera uno spettro che va in risonanza con le frequenze del bulbo del capello e ci permette una volta elaborato dall'intelligenza artificiale e dall'algoritmo ad Hamburgo in 12 minuti di rilasciarsi 12 minuti una mappatura intelligenza marcando oltre 800 fattori chiave naturalmente tutti i certificati non è una diagnosi non è uno strumento di diagnosi avete tutti i certificati a disposizione dovete farne richiesta perché diventerà un centro S-Drive report dei fattori epigenetici qui è utilizzato in tutto il mondo oltre 75 paesi nel mondo cliniche dove naturalmente vanno il Real Madrid il Barcellona viene utilizzato da squadre importanti oltre da centri medici importanti da sportivi a livello internazionale e chi è interessato il 16 novembre faremo un corso base per chi ha già la tecnologia S-Drive e il 21 novembre il corso avanzato grazie al comitato scientifico vi ricordo la nostra scuola di alta formazione che siamo già alla quinta edizione con il comitato scientifico 50 crediti ECM prossimo è il 16 a 7 dicembre il prossimo weekend per informazioni la segreteria Opinuk che ringrazio sempre ecco i vantaggi della tecnologia S-Drive sono c'è un servizio centrato sulla persona e un programma basato su un piano di nutrizione e stile vita personalizzata concludo passando la parola al grandissimo Marco Stanton che tutto questo lo possiamo fare se abbiamo responsabilità consapevolezza conoscenza se abbiamo ancora curiosità nell'approfondire le tematiche che possono danneggiare la salute delle persone e proteggerle ma tutto questo senza amore non avrebbe senso ed ecco che concludo ringraziando veramente tutti i cuore di cuore per la partecipazione e passando la parola a Mike Andolfo è il dottor Marcus Stanton grazie di cuore a tutti Mike ci sei? assolutamente sì eccomi grazie Giorgio grazie Marcus welcome Marcus andiamo un po' Marcus 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 Grazie.